abbiamo qui lo scultore salvatore d'attolo che ha adorato queste sculture per questa giornata bellissime complimenti a cosa si ispira vabbè sono in genere sono un po miste diciamo rappresenta un po tutto dalla ecco mamma col bimbo per dire una scultura che ho fatto su queste mamme che si perdono nel mondo che chiedono l'emosina con un bimbo in braccio e poi c'è il mio cristo un cristo senza croce centonetta poi c'è il vetraro venerdì alternativo madonna delle zattere non madonna ma donna delle zattere c'è bella c il libro rappresenta un po quello che viviamo nel mondo e in italia più che altro perché in effetti ho scolpito l'italia sul libro poi c'è lampedusa un pensiero a questo popolo veramente che ha dato da molto ha dato molto a questa gente che viene da da tutto il mondo insomma senta ma che materiali sono realizzati miste vedo sono miste sono di travertino pietra di travertino c'è radica di olivo e tufo infatti legno noce il tufo mi ha colpito perché quello non è un materiale facile giusto da si lavora molto bene nel più è perfiabile non è come il travertino è molto duro e paroso e il margono ancora un po meglio e grazie e complimenti grazie a voi 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 grazie a voi